La persistenza della memoria, le tentazioni di Sant'Antonio, sono alcuni quadri, alcuni dei quadri che mi hanno ispirata per il mio Dalì. Io ho voluto rappresentare questo genio del surrealismo, artista poliedrico, grande comunicatore, uomo che è uno dei pochi artisti che è stato ricco da vivo. Ecco, spero che non mi accada che i miei quadri acquisino valore solo quando io non ci sarò più. No, scherzo, comunque il mio Dalì rappresenta, appunto Dalì, lo vedete con la maschera, che poi tra l'altro era stata scelta in una famosa serie per un gruppo di rapinatori. Io non intendo dire che Dalì sia un rapinatore, però mi è piaciuto giocare anche a me con la sua immagine. I baffi, come d'altra parte lui giocava sempre, i suoi baffi diventano un albero della vita d'oro e poi vedete appunto i simboli dei quadri che vi ho nominato, l'orologio deformato, gli elefanti deformati, alcune delle immagini che ho chiaramente rilavorato a modo mio. Se guardate nel fondo c'è anche il volto della sua musa principale, la sua moglie, anche se lui fu un grande amante delle donne, infatti la sua sezione un po' per il corpo femminile è rappresentata anche nel mio quadro, delle piante che danno dei fiori che sono a forma di labbra, di glutei, insomma le schiene di donne e poi le formiche che sono tra gli animali che lui rappresentava di più, gli insetti che hanno dei profondi significati. Ecco, comunque ho voluto rendere omaggio al grande Dalì e spero che vi piace. Chiaramente il quadro è materico perché ho voluto dare risalto alla parte appunto della ricchezza rappresentata appunto dal colore oro.